Ciao a tutti ragazzi, siamo su Yu-Gi-Oh Tag Force I nostri eroi con le carte ragazzi Chi si scorda Yu-Gi-Oh? Chi è quello che se lo scorderebbe? Sempre stato nei nostri cuori E sarà sempre nei nostri cuori Yu-Gi-Oh per me è stata una scoperta bellissima Guardate con che animazioni Ragazzi non potete capire Io l'ho già giocato a sto gioco Sono ancora dagli inizi Ho fatto già un pizzico di prova di gioco Gioco con Jedi Yu-Gi Questa avventura la giochiamo con Jedi Yu-Gi Senza lasciare un duello nel singolo duello ovviamente Ok ora basta Ero arrivata qua, carichiamo lo stato Mi stavo facendo questo duello Ovviamente Leone Botanico Attenzione Avevo cato Leone Botanico Cosa fa? Aumento la interlocazione speciale Mostra fusione Ad alto fuso Un attacco originale Inferiore all'attacco di questa carta Sì vanno su magico terreno Scusate ragazzi Sto anche mangiando il gelato Mentre guardiamo Mi ha inflitto un bel po' di danni ragazzi Scusate ragazzi Scusate ragazzi Scusate ragazzi Se è così sono fortunata Bravo bravo Sto magando il gelato Per questo non mi sentite a parlare Scopro una carta coperta La mia trappola si attiva Cosa? Ragazzi Non l'ho ammazzato Non ho capito Questo è tuo Ovviamente Il suo gelato Abbiamo Attenzione Qui abbiamo Porta l'impegno Che ci mettiamo In un duello intelligento Cosa? Doveva un attimo Una magia Emergenza Mamma mia L'adoro sta carta Attivo Fatemi un mostro Tattoroga Piramide Continuiamo così Per tutto il giorno Evo con un mostro Un'attivazione speciale Attualmente Ho modificato Ragazzi Riesci Ecco Evo evocato Gokka Lo spirito Del male Di nuovo Prendi attimo Una magia rapida Ti mostro Non lo so Cosa fa Però ve lo legge Aspetta Mi spiace Se risorio Andiamo O dopo Che ho fitto Di botta di cane Oppure domani Non è molto forte A quanto vedo Ciao ragazzi Presumo che Questa battaglia È stata un piasco Comunque sia Allora Dobbiamo Fare qualche cosa Ciao Grazie a tutti.